Il primo gol per la Grecia è il numero 5, Agri Doblos, 1-0 Grecia, 1-0 Grecia su Malta, non sono passati appena 20 secondi dall'inizio del match. Agendo punti per la Grecia, il numero 9, Forza Marikovlu, un puntaggio di 3-0 Grecia, è rimasto il primo giro di lancette dell'incontro. Buona difesa della Grecia, ora sull'attacco all'attese. Buona risposta del numero 3, tanti. Malta. Malta. Dopo 2 minuti di gioco, un puntaggio sempre inchiodato sul 3-0 per la Grecia. A trattacco vincette, quello dell'Erico, il numero 3, Tartan Piris, un puntaggio di 5-0 Grecia. A trattacco, quello che vedo, sempre in numero 9, con Samadri. A trattacco, il numero 7-0 Grecia. Grazie. 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 Alcolob vincente, il numero 9, il costa Marikovlu. Adagi 9-0 Grecia. Siamo passati a 3 minuti e mezzo dall'inizio del match. Grazie. Il numero 3, il numero 70, il numero 7, il numero 11. No, 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 no. O Business Movement ist wearing Adobe de fuente e miiliare a polish in junho. Un pesante di momento. Qu Aufgabe di tutto questo. 世界e di danno, non closing. Duni south, un certo determinato, il numero 9, il numero 1,imetro 7, 23, 6 il numero diverso Prognția per un grandellesi club. Então si nel någon tom farina 20, il numero gw italiano, il numero 9 che che diceva cineva anche se pesante e encontra, Il numero 9 che diceva un 2019, il numero 9, grandezza 30, e una volta 20, il numero 21. � when choose a casa,ハm m'è, e ke se primo da guardate noi che времени. Il numero 9, Costa Maricoglu, risponde il numero 2, Maltese, Saeed per i primi due punti di Malta, e la scuola è la scuola per la Grecia, siamo quasi a metà del primo periodo, la scuola è la scuola, 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 la scuola è la scuola. Grazie a tutti. 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 Buon attacco greco. Buon attacco greco. Buon attacco. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti